Bentornati con Urku Caneglietto su Italian E-Sports Network Vi presenteremo quest'oggi VCS European 2012 I giocatori che si sfideranno sono In basso a destra col colore blu Giocante da Protos Il nostro ucraino White Ra Che si sfiderà con lo Zerg Sponato in alto a sinistra col colore rosso Orly che abbiamo già visto in precedenza E fa parte del clan Lowland Lions Cosa ci dici su questi giocatori Che sono molto famosi Urku Can Beh sicuramente White Ra È molto famoso Orly è famoso nel senso che l'abbiamo già visto Affrontare Saplo in un match PWZ abbastanza adrenalinico Che si è concluso con Non vi dirò come perché ve lo dovete andare a vedere Bravo Bravo Sì beh non si spoilerà niente Perché sennò poi non è giusto Perché guardato E il match comunque è il 18 Quindi insomma fate ancora in tempo a vederlo Di Orly possiamo dire che Un giocatore è molto Ancora in tempo Non è che sparisce dopo un po' Sì nel senso mettete questo in pausa Andate a vedere l'altro video E poi ritornate E noi continuiamo a castare Come se non fosse successo niente Esatto E Orly dicevamo Ha fatto parte L'abbiamo già presentato Quindi abbiamo già detto che Ha partecipato al VCS 2012 Belgium Vincendo in finale contro Elvis Ma più famoso per la sua opening A base di Blatt Che per affrontare di solito i Protoss Che l'ultima volta non ha usato Contro Saplo Perché questa opening Forse è stata già Counterata Visto che lui l'ha utilizzata molto Nella beta di Starcraft 2 Quindi insomma Un giocatore abbastanza guerrito direi Anche perché il secondo Protoss Che lo vediamo affrontare Vedremo un po' che cosa Riuscirà a fare questa volta Intanto ha messo una pull a 14 E ancora non si è espanso Ma andiamo subito C'è un Nexus First Per il nostro White Ra Eh sì Che ha già piazzato un pilone E successivamente Per il Forge Expand Il Nexus Molto probabilmente sì Perché di solito Una Forge Expand Su questa mappa È molto consigliabile Vediamo Forse in questo momento Orly sta andando a Espandersi Ma c'è la sonda di White Ra Che gli impedirà di Farlo Almeno per qualche secondo E dicevamo Non è che il Forge Expand Sia consigliato in questa mappa In uno ZVP Il Forge Expand È quasi d'obbligo Per il Protoss Sì Però ci sono mappe In cui è più facile Seguirlo E come questa Ad esempio Visto che ha Soltanto due aperture Una è chiusa da rocce Distruggibili L'altra si può chiudere Molto molto facilmente Ma a fatto pare Si è chiuso Completamente White Ra Sì esatto Ma normalmente Temeva l'arrivo dei Ling Normalmente I Protoss Fanno una chiusura totale Quando Vedono che La pull Scende molto in anticipo Proprio perché Non riescono a mettere Il cannone Così presto Per distruggere i Ling Che possono essere fastidiosi Come lo sono in questo momento Contro White Ra Che infatti È costretto a buttare Un altro Nexus Per Chiudere La caduta Probabile Del pilone La caduta immediata Del pilone Infatti vediamo Che i Ling Un altro portale Sì ma Infatti In queste occasioni Non il Nexus Scusate Un gate Non un Nexus Un gate Ma infatti In queste occasioni Di solito Costruiscono Mettono in produzione Strutture Ma poi le annullano Per rimpiazzarle Con piloni O con Qualcos'altro Per non chiudersi Totalmente Perché Mentre tu parli E io ti interrompo C'è White Ra Che fa un doppio assimilatore E la Lachery Di espansione Per Orly È già scesa Da Diciamo Esattamente A metà Sviluppo Sì Intanto C'è l'Overlord Che può tranquillamente Scautare Un pochino Ma io riprenderei Con Gli accenni Ai giocatori Abbiamo parlato Di Orly Ma non abbiamo parlato Di White Ra Che è un giocatore Estremamente abile Forse Il mio Protos Preferito Se posso Azzardare Una Una cosa del genere Perché Molto famoso Lui è iniziato a giocare Direttamente Da Da Broadworld Quindi Un giocatore Che si è fatto le ossa Con La vecchia versione Di Starcraft In cui Tra l'altro Ha Primeggiato In diversi tornei Diventando praticamente Una leggenda Ma In Starcraft 2 Anche non è stato da meno Infatti nel 2011 Ha partecipato Ben a 13 tornei Portandosi a casa A 7 primi posti Tra cui ricordo Il Root Gaming Warzone Il Lomestory Cup 2 Il TeamSpeak TLO Open 11 Battendo Tra l'altro TLO Naniwa Sen Morrow Giocatori pro gamer Veramente abili Quindi Direi che Ha partecipato anche lui Al VCS Ucraina Perché Naturalmente Al VCS European Per forza Sì ovviamente Vuol dire che ha partecipato All'edizione nazionale Il VCS E in finale È stato sconfitto Però da Bly Un altro Zerg Che abbiamo già visto Giocare In uno di nostri Match Di selezione E quindi vedremo Insomma Come se la caverà Questa volta Contro Questo Zerg Che È abbastanza abile Secondo me Potrebbe dare Filo da torcere Anche a Wytra Che Ha molta esperienza Sulle spalle E intanto Vediamo che Mentre io parlavo È già Messo In sviluppo Per Orly La Tana Una seconda Aceri Che è a metà Della Espansione Sì La speed È già finita Mentre invece Il giocatore Protos Sta ricercando Le armi Di unità terrestre Di livello 1 E inoltre Sta facendo Quattro gate Quattro gate In produzione La ricerca del warp gate È quasi terminata E È appena messo Una fabbrica robotica Nella sua espansione Probabilmente Andrà Colossi No no Più che colossi Immortali Perché Ormai Ci sono le blatte In arrivo Quindi La colonia delle blatte Ormai è quasi terminata Ma molto probabilmente Le giocate Che ho visto io Dei protos Quando Si chiudevano Con la foggia espanda E mettevano In costruzione Una fabbrica robotica Con tanti gate Facevano Una giocata Con sentry Immortali E anche Un prisma Dimensionale Che serviva Per warpare Il più vicino Possibile All La zona Di battaglia Stalker E con questa Praticamente Massa Di unità Riuscivano A tenere testa Sia A Ling Che a Blatte E infatti Vediamo subito Che White Tra fa Questa stessa cosa Cioè Inizia la produzione Di mortali E intanto Esce dalla base Sicuro Di 4 sentry Uno stalker E 4 zeloti Vedremo Intanto però C'è la ricerca Delle sacche Ventrali Dalla Carapace Prinomatico Che per chi non sapessero La ricerca Per poter fare Drop E per aumentare La velocità Degli Degli Overload O dei sorveglianti Come li chiamiamo In italiano Quindi Probabilmente Andrà di un Drop Leblatt Che si vede Raramente In tornei Di questo calibro Comunque Sì Di solito È una Ricerca Diciamo Più Tra virgolette Sfiziosa Cioè Che io Vedo fare Più in ladder Che in torneo Perché Comunque Richiede Del tempo Per essere Eseguita Perché bisogna Aver fatto L'evoluzione A Tana E successivamente Bisogna anche Un po' di tempo Per ricercare Le due Ricerche Quindi Altrimenti Gli overload Sono troppo lenti E nonostante Possano caricare Unità Insomma Ci mettono Una vita Per arrivare Dentro la base Avversaria Ma vediamo subito Che c'è stato La produzione Del prisma dimensionale E subito Carica Quattro sentri Questa È una mossa Che di solito I toss Fanno per Infastidire La linea mineraria Perché Gli permette Di fare Dei fosfit E bloccare Addirittura Le unità avversarie Intanto Orly Vediamo Si fa molto aggressivo Riesce a trovare Proxy Pylon Pylon fuori Della base Sì Un Pylon Prendente a metà mappa Va a controllare Se c'è la terza espansione Intanto Come dicevo Le sentri Sono atterrate Sulla seconda Espansione Di Orly Le blatte Possono Cercare di infastidire Ha perso Soltanto una sentri Ma Non possono attaccare Dalle unità aeree Quindi Abbiamo questo Prisma dimensionale Che fa Un po' La spola Su tutte le basi Vedremo se Riuscirà a fare danni Anche sulla Natural Di Orly Ma Io lo sarei andato Direttamente Sulla natural Avrei chiuso Con un force La rampa Almeno avrei tentato Magari avrei Colpato qualche Zelote in più Però E' una delle altre cose Che viene fatta Con il prisma dimensionale Le sentri Ma Forse Wightra Vuole soltanto Infastidire Non vuole Creare più Troppi disordini Anche perché Avrà visto Forse Gli overlord Che hanno la velocità Quindi Si può anche Intuire Qualcosa Del genere Intanto Vediamo Orly Si sta Movimentando Probabilmente Crede che Il pericolo Sia scampato Sulla base E cerca Di vicino Si L'esercito Di Wightra E' ora Decisamente Aguerrito Con Tre immortali E un buon Quantitativo Di persecutori E qualche Zelota Non ci sono Molte sentri Perché ancora Sono sul Prisma dimensionale Quelle tre Che aveva prima Infatti ora Le scarica Vicino l'esercito E Warp A quattro Stalker E si dirige Direttamente Sulla base Mentre L'esercito Di Orly Va verso La base Di Wightra Che riesce A chiudere Con un force field L'unico accesso Alla base Ma le blatte Credo che possano Tranquillamente Riuscire a distruggere Le strutture Che sono A far tappo Per chiudere La base Intanto Vediamo Praticamente Un best raid La stessa cosa Che Orly Ha praticamente Fatto nel match Contro Sape Lo vediamo Come andrà Questa volta Questa volta Abbiamo anche Dei Degli immortali E dei persecutori Che potrebbero Sicuramente Distrugge Molto più Complicemente Tutte le unità Ma vediamo Che Orly Carica tutto Sugli Overlord C'è una fuga Di massa Sto cercando Di far scappare Tutti i suoi droni E tutte le sue unità Restanti Probabilmente Probabilmente Andrà Uno scambio Quasi totale Delle basi Infatti Secondo me Prenderà Una base O nella Nella terza Patch minerale Che sarebbe Di appartenenza A White Trout Oppure Nella quarta Ci sono Questi overlord Che stanno Tranquillamente Viaggiando Lungo Tutta la mappa Vedremo Dove Deciderà Di piazzarsi Intanto White Trout È riuscito A distruggere La main E la natural Ma non si è avvicinato Alla seconda espansione Perché è stata riempita Da impalatori Da Orly Quindi vedremo Un po' Cosa succederà Le blatte Di Orly Stanno Piano piano Distruggendo Tutta la base Di White Trout Hanno già distrutto Il nexus Della natural E ora si stanno Concentrando Sul Sul nexus Principale E intanto Sono arrivate Praticamente Sulla natural Tutte le unità Che Orly Aveva riuscito A salvare Attraverso I suoi Overlord Direi Un po' Miracolosi Perché insomma Sono stati Lì nel momento In cui serviva E avevano già Le ricerche Completate Vediamo ora L'esercito Di White Trout Che sta qui Per attaccare La seconda espansione Di Fa un sacco Di danni Perché comunque Gli immortali Fanno moltissimi danni Alle corazzate E gli imparatori Sono Sì Praticamente Sono classificati Come corazzate Quindi Non è tanto Un problema Gli imparatori Però è un problema Che tutti gli edifici Produzioni White Trout Stanno per essere Disattivati O distrutti O entrambi E inoltre Mentre gli edifici Produzioni Zerg Sono I vivai Con ciò che Orly Sta già producendo Baserà A fare una Pool Per poter Continuare A produrre Unità D'attacco Sì Intanto White Trout Praticamente Rimassa Soltanto Con due Gate Un Assimilatore No E due Assimilatori Che Anzi Uno Era Stato Distrutto E qualche Pilone Oramai Le strutture Di White Trout Sono quasi Finite Se non Costruisce Infatti Ha messo Subito Un Assimilatore In Costruzione Perché Se non Avesse Fatto Questo Probabilmente La partita Sarebbe Finita Entro Breve Visto Che Gli Sono Nasti Soltanto Altri Due Piloni Intanto White Trout Non ha Più Le risorse Per Costruire Un Nexus Quindi Decide Di Costruirsi Un Assimilatore Per Evitare Di Per La partita Per Strutture Finite Giustamente Sì Intanto Vediamo Il Prisma Dimensionale Che Ha Caricato Due Dei Degli Immortali E Si Dirige A Cercare L'espansione L'acere Di Orly Che Credo Sia Costretto A Difenderla A Tutti I Costi Perché Probabilmente Farà Un Elevator Trick Immortal Elevator Trick Inoltre Non può Costruire Gli Imparatori Orly Mentre Intanto Questi Immortali Stanno Distruggendo Tutte Le Blatte Anche Tutti Tutti I Droni Che Ci Sono In Questa Base È Un Bel Problema Per Orly Perché Le Blatte Non Possono Sparare In Aria Quindi Un Problema Intanto Orly Ha Costruito Un'altra Base Che È Stata Prontamente Individuata E Distrutta Da White Tra Vediamo Ora Che Cosa Avrà Intenzione Di Fare Perché Gli Questa Dovrebbe Mettere Immediatamente Un Estrattore O Qualcosa In Produzione Altrimenti La Partita Rischia Di Finere In Questo Momento Vediamo Tutte Le Unità Di Orly Si Stanno Dirigendo Verso L'esercito Di White Tra Ma È Come Dicevo Finisce La Partita Perché Orly Non ha Messo In Costruzione Niente Quindi Vince White Con Un Pilone E Due Assimiliatori Anche Se Avesse Costruito Qualcosa Sarebbe Stato Difficile Anzi Impossibile Perché Comunque Gli Stalker Contro Le Blatte Sono Una Bella Sfida Inoltre C'era Pure Un Immortale Che Seguiva Queste Poverle Blatte Quindi La Vedevo Dura Per La Vedo Ancora Dura Per Orly Quindi Mi Sa Che Ha Perso Giustamente Purtroppo È Stata Una Partita Abbastanza Vincente Perché È Stato Un Best Trade Fino All'ultimo Secondo Però Diciamo Che L'esercito Di Waitra Era Decisamente Più Forte Fin Dall'inizio Quindi Prima Che Iniziasse Il Best Trade E Alla Fine Si è Concluso Con La Vittoria Dell'esercito Più Forte In Campo Così Mi Sembra Sì L'Elevator Trick In Effetti Era Una Mossa Che Poteva Con Il Prisma Dimensionale Avrebbero Potuto Distruggere Tutte Le Blatt E Tutte Le Alte Unità Perché Nessuna Di Queste Sparava In Aria Quindi La Vedevo Abbastanza Dura Per Il Nostro Povero Orly Infatti Ha Perso Questa Era Una Partita Del Winner Bracket In cui Best Of Three Che Ha Visto Con Coinvolti Waitra E Orly Era Se Particolarmente Interessante Non Lo So Non Voglio Anticipare Niente Quindi Non Ve lo Dirò Ammesso Anche Che Lo Sappia Beh Immagini Si Dato Che Tu Hai Scelto Tutti I Replay Ma Si Però Insomma Cerco Sempre Di Mettere Un Quindi E' Stato Un Piacere Ciao Tutti E Alla Prossima Ciao